Avrebbero, signore, avrebbero tutto. Gente, ascolta il popolo, cittadini, ascoltate, bisogna andare a Roma perché fanno schifo, aspettano i 5 anni di legislatura per prendere a 60 anni la pensione a vita. E noi per lavorare 40 anni a buttare il sangue, i pensionati, gli impiegati, per non prendere un quarto di questi qua ladroni e magliuoli e farabutti. Cicciolina, la conoscete a Cicciolina? Quella che si è cacciata la zizza da fuori. Ha fatto due anni di legislatura. Ma piglierà 3.000 euro al mese perché ha compiuto 60 anni. Che schifo! E poi vuole fare il sindico a Monza perché lei sta a Monza. Ma perché non si va a bere i chiudotti che guadagnano? E queste cose a noi fanno schifo. Non lo dobbiamo permettere perché qua ogni massaia quando scende al mattino a fare la spesa il sudoro le gara nelle mutande. I soldi in tasca non ci sono più. Caldoro, Caldoro, Caldoro che ha votato Berlusconi. Ma non mi ricordi che non l'hai votato. Hanno votato pure Caldoro, i napoletani, come presidente della regione. Come è venuto? Che va a fare? Che va a fare? Ha mandato subito i medicini. Ho votato tutti da noi. Che schifo! Che verco! State a Montecitorio, la stessa da Fanaue, capito? Grazie.